La Formula E con propulsione elettrica mette in corsa lo stesso sibilo digitale della stravagante auto del futuro guidata dal giovane Anakin Skywalker nell'ultimo film Star Wars. A parlare così a Leandro Agag, amministratore delegato della società che organizza il campionato di Formula E riservato alle monoposto a trazione elettrica. Pensiamo che il sibilo emesso dai motori elettrici della Formula E saranno esperienza sorprendente per tutti, continua Agag, le monoposto elettriche emettono un sound assolutamente futuristico, nuovo e diverso. Dello stesso parere anche il campione di Formula 1, Yarno Trulli, invitato a provare la nuova Spark Renault SRT01E con telaio dell'italiano Dell'Arag, Gomme Michelin. Il circuito su cui è stata effettuata la prova è il Lafferté Gauchet in Francia. All'interno dell'abitacolo, ha detto Trulli dopo il test, si ha la sensazione di guidare una vera e propria Formula 1, anche se il suono è diverso, si percepiscono bene il motore elettrico e il cambio, quindi in termini di sensibilità è una situazione perfetta per il pilota. Finora ho apprezzato l'esperienza perché la Formula E è una bella macchina da guidare.